La fede è fondamentale per avvicinarsi a Gesù e per affrontare i momenti di difficoltà, come quelli che vivono i lavoratori delle fonderie Pisano. Questa mattina in fabbrica l'arcivescovo di Salerno, Luigi Moretti, ha ufficiato messa alla presenza delle maestranze e delle famiglie, ma anche della proprietà. Un momento di riflessione e fraternità particolarmente apprezzato dai lavoratori, che dopo la celebrazione hanno tenuto un'assemblea con i vertici regionali e nazionali della Fionno. Noi dobbiamo continuare il percorso che abbiamo intrapreso in questi mesi. Cioè noi dobbiamo dare una soluzione definitiva al problema, perché la soluzione di adesso non è ancora definitiva. Lei si aspettava delle polemiche anche su una messa ufficiata dall'arcivesco, la lettera al Papa e via dicendo? Sinceramente no. Sinceramente non credo che una funzione religiosa si possa prestare a questo tipo di valutazioni. In ogni caso sono polemiche a cui non diamo seguito. Dobbiamo anzi continuare per la strada che abbiamo intrapreso. Angelo, una grande emozione la visita dell'arcivescovo, anzi il ritorno dell'arcivescovo, che va detto, insomma, non vi ha mai lasciati soli. È stata una delle poche personalità che ci ha sempre dato una parola di speranza. Non ha fatto politica, ha dato una parola di speranza. Grazie. Grazie.